Il guerriero della luce Non è quello che si prende sulle spalle il peso del mondo. È colui che ha imparato ad affrontare le sfide del momento. Ha bisogno di pazienza e rapidità nello stesso tempo. Tratta ogni situazione come fosse l'unica. Un guerriero della luce condivide il proprio mondo con coloro che ama. Un guerriero della luce sa che nel silenzio del suo cuore c'è un ordine che lo guida. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS